Un documento estremamente deludente. Non si dice nulla per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse europee del PNRR. Poco o nulla rispetto alla programmazione europea dei fondi 21-27. Non c'è una strategia di rilancio del settore produttivo e politiche attive del lavoro per incrementare l'occupazione nella nostra regione. Tutti gli atti della programmazione per quanto riguarda la sanità sono fermi alla scorsa legislatura e nulla si indica in questo documento, così come il grande tema dei corridoi adriatico e la trasversalità o la questione ancora relativa ai trasporti dove si continua a privatizzare. Una parte del DEF inoltre è dedicata alla rendicondazione del Curabruzzo 1 e 2. Bene, a 16-18 mesi dall'approvazione di quelle norme solo il 50% di quelle risorse è stato erogato. Ecco perché siamo fortemente critici e daremo battaglia nel confronto rispetto a questo documento.